Cosa potrebbe essere perso? Si sarebbe potuto fare di più per evitare tale tragedia? Penso che questa situazione sia già una grande tragedia. Si sarebbe potuto prevenire? E quindi mi pongo sempre spontaneamente queste domande, in modo naturale e costante, senza alcuno sforzo aggiuntivo. Questo è un attacco brutale che viola il diritto internazionale, per il quale non c'è scusa. Quello che è successo è, dal mio punto di vista, non solo inaccettabile, ma anche un enorme errore commesso dalla Russia che non può essere ignorato. La diplomazia non è sbagliata solo perché non ha successo. Anch'io non vedo perché dovrei dire di aver sbagliato e quindi non lo farò.